Pescara sarà il centro dell'attenzione per 24 paesi, oltre 1.500 atleti e tutto l'entourage del caso. Dal 28 agosto al 6 settembre si disputeranno i giochi del Mediterraneo su spiaggia. Per farlo sono stati necessari 4 milioni e mezzo di euro, che arriveranno, secondo le previsioni, da tre enti di grosso calibro. Abbiamo trovato la disponibilità del CONI, prima volta nella storia che finanzia economicamente una manifestazione, con 1,5 milioni di euro. Altrettanto si è data disponibile con già una delibera alla regione Abruzzo attraverso dei fondi FAS e infine il governo con la loro sottosegretario del Rio, che aveva assicurato la restante parte dell'altro milione e mezzo di euro. Quindi abbiamo fatto, come dire, centro rispetto all'organizzazione dei giochi. Grande affluenza nella regione significa anche introiti per i vari comparti turistici. Questa operazione ha sicuramente un ritorno, non solo di immagine, per il nostro territorio e per il nostro territorio non intanto solo la città di Pescara, ma l'intera regione Abruzzo, ma dovrei dire anche l'intera nazione, perché i giochi del Mediterraneo riguardano l'Italia. Dopodiché ci sono ritorni anche di tipo economico per quanto riguardano le aziende, le infrastrutture locali. Pescara diventa ora una città al centro dell'attenzione generale e questo, secondo appuntamento, la rende ormai un nome capace di farsi ricordare e meta di chi l'ha visitata già una volta. Quando nel 2003 Pescara ebbe aggiudicata l'organizzazione dei giochi del Mediterraneo, molti dirigenti stranieri, che pure avevano votato per Pescara, poi sono usciti dalla sala dicendo ma dove sta Pescara? Sono venuti a Pescara nel 2009, molti di questi sono tornati anche per fare le vacanze e l'ulteriore dimostrazione è che Pescara è talmente conosciuta adesso che gli sono stati affidati anche i giochi del 2015. Quindi penso di aver risposto alla sua domanda e quindi non solo è positivo, è beneaugurante veramente. Grazie. Grazie. Grazie.